Caffèd, non è un'esclusiva. Si definisce esclusiva, un gioco per cui è necessario acquistare un determinato hardware per poterci giocare. Ricord, Gears, Quantum Break, e Forza Horizon 3, non sono disponibili su PlayStation, ma solo su Xbox e PC. Sul fronte Sony, e il Blade & Eier Automata, al momento sono disponibili solo su PS4 e PC. Ciò che li accomuna però, è il fatto che non basta un PC qualsiasi, bensì uno abbastanza potente al punto da far porre al potenziale acquirente, non in possesso di tale PC, un dubbio. Mi compro una console, oppure un buon PC da gaming? Questo fattore rende giochi che nominato delle esclusive console, in quanto contribuiscono al potenziale acquisto di una determinata console. La storia è molto diversa nel caso di Caffèd. I suoi requisiti hardware sono persino inferiori di quelli di un qualsiasi gioco di medio-alto profilo uscito dieci anni fa, esclusi Fire Crisis, il che significa che la maggior parte dei possessori di un PC abbastanza recente, anche non orientato all'utilizzo di videogiochi, è in grado di far girare Caffèd. Questo significa che non possessori di Xbox non arriveranno mai a porsi il problema se acquistare un Xbox per Caffèd.